1932 nell'inverno 1932 a torino grandi progetti arditi propositi benché il servizio militare mi avesse fatto conoscere l'estremo arco delle alpi cosse marittime i miei desideri erano sempre fissi sulle dolomiti e sulle grandi salite del monte bianco nelle lunghe discussioni sui problemi alpinistici con i miei compagni di torino si andavano precisando sempre più le concezioni e le mete da raggiungere ora non si trattava più di vagabondare tra le montagne solo per soddisfare la propria passione innata ma anche di dare un valore universale alle nostre imprese e riaffiorava la speranza di poter concretare un vecchio sogno incullato sin da quando sui banchi della scuola mi entusiasmavo alle letture delle grandi vittorie degli uomini sui segreti della natura e i nansen gli aunsen gli scott erano i miei eroi preferiti il desiderio era quello di poter riprendere le vie battute dal duca degli abruzzi e su quelle piste andare oltre sulle grandi montagne dell'himalaia inviolate e comprendevo che per prepararsi a questo non bastava essere in grado di superare le difficoltà tecniche più ardue ma anche e soprattutto conoscere l'alta montagna nelle sue condizioni più difficili queste condizioni si presentavano particolarmente nella stagione invernale fu quindi con grande gioia che accorsi le proposte di Emanuele Andreis e di Paolo Ceresa di andare a tentare la Nordel, la Nordend, la seconda cima del Monte Rosa. Era questa una delle vette che in quegli ultimi anni aveva spesso attratto gli sguardi e le speranze di parecchie cordate che o a causa delle cattive condizioni della cresta o del maltempo venne sempre mancata. Anzi, secondo i dati attenti dal libro di Kurz e da altri autorevoli conoscitori della zona, noi credevamo che non fosse mai stata salita in inverno. Solo parecchi giorni dopo che l'avevamo riuscita, Andreis trovava un cenno di un'ascensione compiuta da due guide svizzere con un cliente. Mancano però in questa salita ragguagli e dati precisi. Inoltre quell'anno aveva avuto un lungo periodo particolarmente favorevole al grande alpinismo invernale. La poca neve caduta all'inizio dell'inverno era stata, durante i nostri molti giorni di baltempo, spazzata via dal vento e le montagne presentavano un aspetto quasi in stile. Uno degli ultimi giorni di gennaio, Paolo Ceresa, venne ad avvertirmi che Emanuele Andreis voleva partire subito. Essendo anch'io libero dai impegni cittadini, l'appuntamento venne fissato per la mattina del 3 febbraio, col primo treno in partenza per aosta. Io però mi fece un dovere di complicare subito le cose, restando a letto e perdendo il treno. Così, mentre i miei compagni iniziavano il viaggio, fui costretto a un lungo inseguimento che doveva concludersi al colle del Teodulo. A Castigliondora non c'erano più autoservizi di linea. Impiegai molto tempo a mettere insieme altre tre persone con le quali poter prendere un'auto pubblica. A Valtornage arrivo alle 4 del pomeriggio e l'albergo dove mi reco trovo un biglietto dei miei compagni, che erano partiti già per il Teodulo, subito dopo colazione, accompagnati da Bic per aprire il rifugio. Ti aspettiamo domani mattina al colle, parti subito. Domattina. Quindi io dovrei, il giorno precedente all'ascensione, farmi tutto ad un fiato, la tappa fino alla capanna a Bentè. La cosa non mi va molto a genio e decido di raggiungere il Teodulo nella notte. Non bisogna dimenticare che la strada per il Broil non era ancora fatta, non solo, ma che non c'era nessun albergo aperto in quella località. Quindi il trasportarsi da Valtornage fino al colle costituiva una vera e propria escursione, e nemmeno breve. Lascio Valtornage che sono quasi le 17. Non c'è neve, è rispettabile peso del sacco, dove si sommano oltre i viveri per cinque giorni, corda, ramponi e piccozza, devo aggiungere anche quello degli sci. In poco più di due ore di marcia veloce raggiungo il Broil dove mi metto gli sci e inizio la rampa del Giomeo. Da una casupola sotto l'albergo, dal quale è custode, esce la caratteristica figura di Carrel, il figlio del bersagliere, unico abitante del grande piano immenso nella solitudine invernale. La vecchia guida mi interroga con un'aria molto dubbia. Dove mai potrà andare con l'individuo ora che il sole è già scomparso e le tenebre stanno per avvolgere ogni cosa? Certo che incominciare una lunga gita in sci al tramonto e con la notte senza luna è cosa poco comune anche per me. Ma gli spiego che questa volta devo proprio andare, lo saluto e riparto con i suoi auguri. Di questa solitaria passeggiata notturna non dovrò però certamente dolermene. La fine del giorno in montagna ha sempre prodotto su di me impressioni profonde ed emotive di cui non conosco le origini. Proseguo tranquillo con l'animo soggiogato dal silenzio e dalla grandiosità del luogo. La mole del cervino svaniva lentamente nel buio e in fondo verso l'imboccatura della valle si spegnevano gli ultimi baglioli di un tramonto straordinariamente limpido. Quando le tenebre furono così fitte che non riuscì più a distinguere le piste che i miei compagni avevano tracciato nel pomeriggio, accesi la lanterna e l'agganciai alla cintola. Continuo alla luce saltellante seguendo lesi le tracce che alle volte sulla neve resa dura dal vento è solamente un segno. Ogni tanto la perdo e allora sono costretto ad andare a tentoni finché con gioia la ritrovo. A metà salita si alzò il vento, ospite poco gradito, dato il freddo già intenso. Per combatterlo accelerai l'andatura, ma ciò nonostante subì in breve le prime non piacevoli conseguenze. La cinghietta dell'attacco destro dello sci mi stringeva forte la scarpa impedendomi i liberi movimenti del piede che cominciò a farmi male con sintomi di congelamento, ma non essendo molto più distante da rifugio mi convenne proseguirmi. Vi arrivai che era quasi mezzanotte e con mia grande sorpresa. Trovo Vic ancora alzato. Dopo un energico massaggio al piede, infortunato, raggiungo nelle cucette i miei compagni che mi accolgono con stupore e allegrezza. Domani mattina dicono potremo partire molto presto. Difatti la poltroneria e il freddo che regna nella stanza, siamo sotto un monte di coperte e con il passamontagna in testa, ci fanno dormire fino dopo le otto. Alle dieci riusciamo a partire, ma non abbiamo fretta, anche questa tappa sarà breve e non dobbiamo stancarci. Invece di fare il giro sotto la gandeg, scendiamo direttamente per il ripido pendio che porto sull'Unterteolbüge Scher. Maurizio Vic ha chiuso rifugio del ripartito, così noi restiamo completamente isolati nella vasta zona glaciale del Rosa. Questo senso di restare abbandonati a se stessi è una delle maggiori attrattive dell'alpinismo invernale. Proseguiamo veloci sul pianoro del grande ghiacciaio che scende dall'ISCAM. Sulla destra orografica, del quale, su una morena all'incrocio degli acciai del Rosa, ci appare, piccolo quadretto nero che si confonde coi massi, la capanna Betin, punto di partenza per la nostra ascensione. Vi arriviamo verso le 14. Dopo una rapida visita all'interno del rifugio e un fugale spuntino, i miei compagni decidono di impiegare le due ore di sole ancora disponibili per una breve ricognizione sulla morena. Io intanto segherò e spaccherò la legna, accenderò il fuoco e metterò a sciogliere la neve per preparare l'acqua. Terminati questi indispensabili traffici, esco l'aperto e mi siedo al sole, su una roccia calda, ad attendere il ritorno di Paolo ed Emanuele. È la prima volta che mi trovo su questo versante delle Alpi. La Betin è situata al centro dei Colossi delle Pennine, in mezzo ai ghiacciai del versante nord. Ne fanno corona sei cime di 4.500 metri, diverse altre superiori ai 4.000, che io ravviso ad una ad una nelle rimembranze delle letture delle conquiste antiche e recenti. E il mio sguardo, vagando dall'una all'altra, si ferma a lungo sulla ferrigna piramide del Cervino, sul quale, fra qualche giorno, vi attenderà un'altra ardua battaglia. Intanto il sole cala lentamente verso l'Iscan. I suoi raggiubili qui fanno scintillare le seraccate e sconvolte. Sullo sfondo azzurro del cielo le alte creste si intagliano con linee purissime. Non c'è un filo di vento. Le ombre si estendono gradatamente sui ghiacciai. I miei sensi finora tesi per afferrare le minime sfumature della misteriosa armonia che emana da queste magnifiche creazioni di ghiaccio e di roccia, a poco a poco si placano e, cullato dolcemente dal silenzio che mi circonda, mi lascio assopire. Il passo ferrato dei miei compagni, che ritornano, mi scuote improvvisamente, facendomi balzare in piedi. Hanno salito la morena, hanno trovato i passaggi da fare domani al lume della lanterna e ora bisogna pensare a mangiare e riposarsi. Rientriamo insieme nella capanna. Il mattino dopo, 5 febbraio, alle 6.30, siamo pronti per partire. Il freddo è intensissimo e nel cielo non c'è la minima nube. Tutto promette bene. Ci incamminiamo con gli sci in spalla su per la morena. Quando arriviamo sul ghiacciaio, li mettiamo, ci leghiamo incordata e continuiamo speditamente. La neve è dura e si potrebbe benissimo andare a piedi, ma la prospettiva di portare gli sci non ci sorride molto, perciò ci arrangiamo a salire battendogli energicamente per farli mordere gli spigolo. Proseguiamo sempre in sci, ma siamo poco convinti. Sappiamo benissimo che a piedi si farebbe molto più in fretta, ma allora bisognerebbe lasciare gli sci, perché a tirarsi lì dietro sono un ingombro e un peso notevole. E se in più in alto la neve fosse polverosa? Ci scambiamo questi punti di vista, delle svolte degli innuerevoli serpentini che la cordata svolge su un pendio non molto ripido. Però, anche a parlare, si fa fatica, non tanto per la salita quanto per il freddo che ci contrae le mascelle, sebbene siano ricoperte dal pesante passamontaglio. Il ghiacciaio però continua a essere senza neve, anzi, ora è così spazzato dal vento che si tratti di neve gelata si alternano anche dei tratti di ghiaccio vivo, ma poi, vedendo che difficilmente si sarebbe trovato dalla neve alta, piantiamo gli sci in una buca, con generale soddisfazione per la decisione che ci libera del peso noioso. Del resto, li abbiamo portati a spasso abbastanza con qui. Potremmo ancora utilizzarli forse a ritorno, per la discesa del secondo tratto. Riprendiamo salire più veloci dopo esserci messi i ramponi. La via da seguire sul ghiacciaio del Monte Rosa è quella estiva ed è abbastanza evidente. Solo in alto, sotto il colle, enormi pepacci sembrano sbarrare la strada. Procediamo sempre all'ombra, ma all'altezza del Sutter è una striscia di sole che sfocia dall'insellatura riga il ghiacciaio e fa orientare i nostri passi da quella parte. Appena la raggiungiamo ci fermiamo un momento, felici di constatare che al sole la temperatura è un po' diversa e ci possiamo così riscaldare. Manca un'ora e mezzogiorno, quindi riteniamo di essere in orario. Quantunque il freddo ci abbia intorpidito e fatto camminare come trassognati, impedendoci di andare più in fretta e malgrado ci siano ancora quasi 400 metri di visivello per arrivare al Sibrestattel, senza contare la zona crepacciata da oltrepassare. Riprendiamo salire, lasciando ben presto, alle nostre spalle, la provvidenziale fascia di sole, ma anche in ombra il freddo ora ci sembra diminuito. Arrivati alla seraccata constatiamo che, come era prevedibile, i crepacci sono tutti scoperti, ma qualche ponte c'è. In ottimo stato, solo verso la fine una crepaccia maggiore delle altre ci fu a compiere qualche giro per cercare l'unico passaggio esistente. Passato questo raggiungiamo abbastanza comodamente il colle dove possiamo riposarci al sole, perché qui c'è finalmente il sole e nel frattempo osserviamo la cresta che porta sulla vetta. Lunga circa 200 metri e in ghiaccio vivo, ma non molto affilata. Le buone condizioni della montagna si scontano naturalmente qua. Non essendo caduta neve sufficiente a ricoprirlo dopo la scorsa estate, il ghiacciaio è tutto scoperto e manda dei riflessi verdognoli, bellissimi a vedersi, il cui effetto artistico non è da molto apprezzato in questo momento. Dopo la sosta attacchiamo, in principio si sale assieme. Dove, poi dove la cresta si raddrizza un po', prudentemente adottiamo anche delle misure di sicurezza. Qualche gradino non guasterebbe, servirà per la discesa, grido io ad Emanuele, anche perché, sia per il freddo, sia per la fatica o per qualche altra causa. Dio, quante scuse! Mi sento un po' traballante. Difatti, i gradini si allineano in bell'ordine sul pendio e procediamo più sicuri. Alle 13.50 siamo sulla vetta, formata da un minuscolo cucuzzolo di roccia, che balza prepotente da tutto il ghiacciaio circostante. La roccia è calda e dopo tutto quel freddo si sta proprio bene. Adesso fa persino troppo caldo, tanto che ci invade una fortissima voglia di dormire. Non ci lasciamo però allettare dall'invito e ci mettiamo a mangiare poche cose che abbiamo nel sacco, non senza ramiricarci di averlo fatto mal fornito. Tra un boccone e l'altro sbrisciamo sotto di noi la paurosa parete nord, scintillante di ghiaccio estriata dalle scariche delle valande. Indubbiamente ci vuole del fegato a salire da lì. Mandiamo un pensiero rivenente ad Imsen che per primo so affrontarla e vincerla, non curante di sassi e slavine. Intanto il sole ha già incominciato la sua parabola discendente e anche noi dobbiamo metterci in cammino. Ci siamo fermati un'ora, quasi troppo per il tempo che abbiamo a disposizione. I primi passi sono ancora più traballanti di prima. Il sole è l'altezza a cui non si è allenati, hanno aumentato l'intorpidimento e il fianco della cresta sembra ora di una vertiginosità impressionante. Eppure non lo è, scherzi di cattivo genere, ma gradualmente la sicurezza ritorna, sicché al colle arriviamo di corsa. Non comincia ad essere tardi e non possiamo certo indugiare oltre. Scendiamo rapidamente con qualche fermata per riprendere fiato. Durante la giornata al sole ha rammollito la durissima cresta, che ora si rompe in piastre romboidali sotto il nostro peso. Malgrado questo non impieghiamo molto tempo a giungere presso gli sci. Pensiamo che sarà possibile utilizzarli e li infiliamo. Non l'avessimo mai fatto. La crosta non ci sostiene neanche con i legni. Dopo mezz'ora di inauditi contorcimenti per fare qualche centimaio di metri, dobbiamo rassegnarci a levarli di nuovo e riporli in spalla. Nel frattempo il sole è scomparso dietro i liscani e la notte si avvicina rapidamente, mentre noi scendiamo ancora più ad agio, perché la stanchezza si fa sentire. Usciamo dal ghiacciaio e abbordiamo la morena, che è quasi buio. Scendiamo ancora per mezz'ora affrontando, affondando nella neve, finché siamo costretti ad accendere la lanterna. Alla sua luce perdiamo subito le tracce giuste e ce ne andiamo un po' alla cieca, nell'ipotetica direzione della capanna. Impieghiamo una buona ora in piacevoli giri tra i sassi, riempiendo il silenzio di imprecazione. Ogni qualvolta uno di noi infila una delle buche che si aprono, con compiacenza, tra un massimo e l'altro. Alle 19.30 arriviamo. Mangiamo e andiamo a dormire non senza avere prima brindato alla nostra vittoria, con un'effervescente acqua viscì. Il giorno 7 riprendiamo la strada del ritorno, questa volta finalmente con gli sci nei piedi. Rifacciamo il percorso del giorno 4 fino al Teodulo e mentre i miei compagni vi si fermano per poter domani fare il Brighton o il Castor, io continuo a scendere verso Valtournage, dove dovrei trovare la cordata Boccalatte-Gallo-Pisore e mio compagno Lupotto, con il quale tentare la cresta di Furghiana al Cervino. Trovo invece un biglietto con i quali i son nominati mi avvertono che hanno rimandato la partenza. Sul momento non riesco a rendermi ragione di tale rinvio e non ne ho la spiegazione che quando arrivo poi a Torino. Date l'importanza dell'impresa, essi avevano voluto seguire scientificamente le previsioni del tempo e si erano dati a compulsare giornalmente le informazioni sul movimento delle zone cicloniche e anticicloniche che passeggiavano per l'alta e media Europa. La conclusione di questi studi era che il maltempo si stava avvicinando a grandi passi e da ciò la decisione di attendere, ma dopo alcuni giorni, visto che le informazioni continuavano a essere cattive e che il tempo invece persisteva ad essere bello, diamo il via ugualmente all'impresa. Nel frattempo però Pisone e Lupotto vennero trattenuti a Torino da altri impegni, mentre si unì alla nostra idea Guido dei Regi. Così, trasformate le cordate di due in un'unica di tre componenti, il 20 febbraio prendiamo il treno per Val Tornasci. Nella stessa sera, con il pleno di lunio che illumina la ballata a giorno, aggiungiamo il broile per nottiamo al nuovo rifugio albergo non ancora finito che il capitano Bic ha gentilmente messo a nostra disposizione. Qui ritengo doveroso aprire una piccola parentesi per giustificare la nostra idea. È ancora diffusa nel mondo alpinistico malgrado le magnifiche prove dei nostri pionieri, da sella a piacenza, e le chiarissime illustrazioni del Kutz, una specie di prevenzione contro l'alpinismo invernale. Si temono i disagi, il freddo e soprattutto la mancanza di comodità derivanti dal fatto che i rifugi albergo sono necessariamente chiusi. Ma l'alpinista forte e sicuro di sé dovrebbe invece cercare e preferire l'ascensione invernale perché più di ogni altra dà la misura delle sue forze nei confronti con le asperità della montagna, trovandosi egli sempre a lottare per giorni e giorni, completamente isolato e senza possibilità di rifornimenti. Inoltre l'uso inappropriato degli sci permette oggi di trasformare le lunghe e faticose marce di approccio ai rifugi e agli attacchi in piacevoli traversate e in fantastiche scivolate in mezzo all'ascenario delle grandi montagne e dei ghiacci perenni. I più ottimisti osservano tutto il più che si possono raggiungere le vette classiche dalle vie normali ed escludono le vie di roccia di grande difficoltà. Ma tra i diversi lati negativi che questi problemi invernali presentano ce n'è uno di vantaggio e cioè che il pericolo obiettivo delle frequenti scariche di sassi rimane e risulta eliminato. La neve e il freddo, di solito nemici dell'alpinista, in questo caso si alleano a lui e mantengono ben saldi nel loro alveo di ghiaccio e massi, impedendo loro di trasformarsi in temibili proiettili. La cresta di Fuggen al Cervino rientra appunto in questo ordine di ascensioni. Questa cresta è stata finora salita solamente due volte. La prima il 1911 da Piacenza con Jean-Joseph Carrel e Joseph Gaspard. La seconda il 2 settembre 1930 da Benedetti con Luigi Carrel, Carrellino e Maurizio Bic. Volerla fare in inverno potrebbe essere considerata una pazzia e infatti ci diedero effettivamente torto, ma le condizioni della montagna non sono sempre le stesse e una prima esperienza potrà servirci per il futuro. La rinuncia alla realizzazione di un progetto può essere amare, ma ciò non toglie che l'aver cercato di superare noi stessi, nel limite del possibile, resti come legittima soddisfazione della nostra passione e del nostro entusiasmo. Il valore spirituale di una sconfitta può anche essere superiore a quello di una vittoria più facilmente raggiunta. La domenica mattina, calzati di sci, partiamo alla volta del rifugio dell'Early. Il tempo ci sembra proprio propizio. Spira una leggera brezza dal nord e le montagne che lentamente si tingono di rosa sotto i primi raggi del sole si dimostrano ben disposte verso di noi. A causa dei sacchi molto pesanti, due corde ramponi piccozze e provviste per diversi giorni e di un sole veramente primaverile, camminiamo molto ad agio e impieghiamo quasi tutto il giorno a compiere la traversata, balicando il colle di Furgen. Lunedì mattina alle 6.30, ramponi ai piedi, siamo pronti per la partenza. Sopra le scarpe abbiamo infilato delle calze di lana per proteggere dal contatto diretto con la neve. Il tempo stamane è imbronciato. Ritorna il dubbio dei bollettini torinesi. Esilissime nubie stazionanti sopra i monti dell'Oberland e del massiccio del rosa promettono vento. Sulla vetta del cervino giostrano dei vapori minacciosi che a intervalli regolari si staccano dal gigante e si perdono sfilacciati nel cielo e vengono continuamente rinnovati da altri che salgono affolate dal versante opposto. Ma il vento è buono e il nostro è superiore a tutte le depressioni nordiche. Poi è già tardi, troppo tardi, come dovremmo purtroppo constatare dopo e bisogna decidersi. Facciamo gli scongiuri e partiamo. Scendiamo per la morena sul ghiacciaio e andiamo ad attaccare la parete est, circa alla base della perpendicolare calata dalla cima. Questa parete allora era ancora inviolata, ma fino alla cingia che unisce le due spalle non presenta una pendenza rilevante. Ci innalziamo rapidamente, slegati per fare più presto, sui ripidi pendidini e vegelata dove i lamponi mordono ottimamente. A metà parete cominciamo a piegare verso sinistra, puntando sulla cresta alla base del secondo salto di Furgen. Questo primo tratto della montagna è abbastanza favorevole. Solo di tratto in tratto qualche sasso ben educato, passando rispettosa distanza, ci porta il saluto della vetta. Ma fortunatamente sono rai e poi la parete è così vasta che debbano cogliere proprio noi. Alle 10.30 siamo sulle prime rocce della cresta di Furgen, 200 metri sotto la spalla. Ci concediamo un breve riposo di mezz'ora e ne approfittiamo per uno spuntino. Le nebbie sono quasi del tutto che per quasi tutta la mattina avevano ovalato il cielo e sono scomparse. Effetti del cambio di luna, commenta De Rege, meteorologo della comitiva. La nostra fiducia ha avuto ragione. Ora siamo convinti della vittoria, perché crediamo di poter raggiungere la spalla in poco più di un'ora. Invece le difese che la montagna invernale doveva opporre alla nostra volontà di conquista, si rivelano ora. Sopra di noi la pendenza si fa più forte e al posto dell'ottima neve gelata trovata finora subentrano larghe placche di ghiaccio. Ci leghiamo in cordata e Gabriele, con la maggiore autorità che gli compete per le precedenti salite, ne prende il comando. Così cerchiamo di continuare, ma le rocce fioranti sono lisce e coi ramponi bisogna ricorrere il virtuosismo per superarle. Procediamo lentamente, ben presto siamo obbligati a riconoscere che non possiamo raggiungere la spalla in tempo utile per terminare l'ascensione per gli stropiombi di Fürgen. Sono le 12.30, decidiamo di tagliare a destra raggiungendo la spalla svizzera e di andare per notare alla Solveig. Quindi, alle 15, siamo sulla spalla dopo una attraversata molto delicata. Il sole è scomparso dietro la montagna e si è alzato il vento. Il freddo è intensissimo. Scendiamo la cresta che porta alla piccola capanna svizzera, fermandoci di tratto in tratto a riscaldare le mani, che al contatto con la roccia minacciano di gelare. Alle 17 ci arriviamo e ci prepariamo per la notte. Il tempo ormai si può considerare sicuro. Quando si ha questa certezza, si possono affrontare, d'inverno, quasi tutte le grandi ascensioni. Al martedì mattina indugiamo sotto le coperte, poiché crediamo di non poter attaccare le rocce prima che il sole le riscaldi. Questo sarà il nostro secondo errore, che ci costerà l'effettuazione completa del nostro progetto. Alle 8 partiamo, arrempichiamo velocemente sulla cresta spoglia di neve e alle 9.20 raggiungiamo la spalla. Riprendiamo le piste del giorno precedente e dopo 100 metri le abbandoniamo, puntando direttamente alla spalla di Furgan. Le difficoltà che avevamo incontrato il giorno prima qui si fanno ancora più serie. La cenge di detriti che unisce le due spalle è ora di ghiaccio vivo e forma con la ripida parete sottostante un unico vertiginoso sdrucciolo. Boccalatta è continuamente obbligato a tagliare gradini. Non c'è nessuna possibilità di assicurazione e perciò proseguiamo lentamente, poiché il passo falso di uno porterebbe tutti e tre a rifare di volata la parete percorso in salita il giorno prima. Alle 11 siamo appena ad un terzo della traversata. Facciamo un breve consulto. Continuare significherebbe biorcare poi sulla cresta di Furgan o se tutto va bene addirittura in betta al cervino. E noi vogliamo ad ogni costo evitare il bivacco che in questa stagione potrebbe avere delle conseguenze disastrose. Probabilmente se in quel momento avessimo saputo che la sorte ci avrebbe costretti poi a dormire. Alla bella stella sulla cresta dell'Urli si sarebbe proseguito a dispetto di tutte le difficoltà. Decidiamo quindi di ritornare e di salire in punta per la cresta svizzera. Alle 11.50 siamo nuovamente sulla spalla dell'Urli. Grazie. 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 Grazie.